Ciao, bentornati e benvenuti in un nuovo video e qui sul canale. Io sono Elena, se non mi conoscete, e oggi parliamo di un argomento tanto amato dalle donne quanto amato da me, ovviamente lo shopping. Sì, perché domenica scorsa, prima di ammalarmi ovviamente, sarà magari stata anche quella la causa della mia malattia, ma glissiamo, sono stata da Primark e qualche settimana prima da Pecco, quindi ho pensato di farvi vedere in questo video tutto quello che ho trovato negli store e tutto quello che ovviamente io ho messo nel mio sacchetto che andremo ad unboxare insieme. Sono due sacchetti belli grandi, questo è il sacchettino di Pecco e ora vi faccio vedere il sacchetto di Primark. E questo è il sacchetto di Primark. Da Centradarese è stato un bel giro, ci sono state molto volentieri, anche se Primark andandoci di domenica è praticamente quasi inarrivabile, nel senso che è super affollato, non riuscite a vedere niente. Non l'ho trovato, devo dire, molto disordinato, anzi, mi aspettavo molto più disordine, invece era anche abbastanza ordinato, però era veramente troppo pieno di persone. Quindi, prima di partire, vi ricordo soltanto di iscrivervi al canale, se non lo fate già, per non perdervi tutti i contenuti che arriveranno qui. E direi che è il momento di vedere tutto lo shopping di Primark. Allora, ho preso delle magliettine da bimbi, l'abbigliamento da bambino da Primark è super economico, abbastanza valido, si lava e si rilava in lavatrice, comunque il tessuto regge abbastanza bene. Le magliette a 2€, veramente credo non possiate trovarle più ormai da nessuna parte. Queste sono veramente super carine, con queste fantasie già super primaverili. Sono manica corta, quindi mi sono già data un pochino alla pazza gioia per il guardaroba primavera-estate. Scontrino alla mano, ho speso ben 66€, quindi andiamo a vedere che cosa ho acquistato per 66€. Mi sono stupita quando sono arrivata alla cassa, perché devo dire che sì, i prezzi di Primark sono ancora bassi, però ovviamente come tutto hanno subito un leggero aumento, ma ce l'aspettavamo. Mentre aspetti alle casse, ovviamente salta fuori sempre qualcosa che tu puoi mettere nel tuo sacchetto, come ad esempio questi elastici. Devo dire che gli espositori di Primark vicino alle casse sono ben studiati, 1,50€ per tutti questi elastici, magari per fare anche qualche acconciatura, sono molto sottili, quindi sono pratici, utili e anche se ne perdo 2-3, insomma pagati 1,50€ ci sta, neri semplicissimi, basici neanche a dirlo. Vi faccio vedere le uniche due cosine di abbigliamento che ho acquistato, sono delle felpine veramente super super basiche, leggere, quindi sono proprio quelle felpine garzate, proprio quel tessuto bello, bello e leggero proprio per la primavera. Questo colore è proprio neutro, beige, e ha questo disegnino, sono disegnati appunto dei numerini come fosse un logo qui davanti, proprio felpa classica, semplice, oversize, manica lunga, con ovviamente il risvoltino sia nel polso che poi sotto in vita, molto semplice, sportiva. Ho preso una media, potevo anche prendere una S perché sono molto abbondanti, ma le voglio belle morbide, da mettere sul jeans, da mettere sul pantalone bianco in primavera, e ne ho presa un'altra identica, tra l'altro 7€, quindi veramente un super prezzo piccolo. Questo invece ha tutta questa scritta sul davanti, Hamptons, il colore mi è piaciuto davvero tantissimo, è tra l'azzurro e il verde, un po' carta zucchero, veramente bello. E niente, semplicissima, come l'altra praticamente identica, ha preso nello stesso stand, ha chiappato tutte e due perché in primavera le felpine col jeans sono molto pratiche, le metto spessissimo. Ho preso delle fascette, magari anche per fare la skin care, per stare in casa, quando non ho voglia di avere i capelli davanti, insomma, di avere i capelli un pochino più in ordine, due fasce, 3,50€, anche se poi le fasce mi piacciono molto, indossate su tantissimi influencer che vedo, ma poi quando le metto a me stanno malissimo, ma comunque le ho volute prendere lo stesso. Ovviamente vai da Primark e ti servono le salviettine struccanti, ovviamente non per struccarsi, lo sottolineo, ma per rimuovere gli swatches, per pulire la postazione, eccetera, eccetera, 1,50€ il B-Pack, quindi anche queste messe nel sacchettino. Poi ho trovato lo shampoo secco e devo dire che anche questo 2,40€ è un buon prezzo perché gli shampoo secco di solito si trovano oltre i 4€ e quindi, diciamo, ho voluto provare, vediamo, tra l'altro qui c'è scritto invisible, quindi lo spruzzo dovrebbe essere invisibile e non lasciare la luna e bianco, vedremo, ve lo saprò dire, mi serve per rinfrescare i capelli, magari tra un lavaggio e l'altro, magari prima di un video, invece oggi sono belli, belli puliti e belli lavati, si vede, però quando il capello è pulito e lavato ha un altro aspetto, farà proprio un'altra figura e comunque questo da tenere di emergenza ci sta, tra l'altro è bello, una confezione bella grande, durerà un po'. Poi mi sono imbattuta nello stand dei profumi e ho preso solo questa mini size, sono stata super brava perché ho tanti profumi, perché li devo finire, bla bla bla, e quindi non volevo tra l'altro nemmeno fare spese eccessive, ma questo mi è piaciuto particolarmente, è un po' legnoso, bello persistente, assomiglia un po' a quei profumi arabeggianti che è un po' che vi dico che ho questa fissazione per questo tipo di profumi e quindi questo è venuto a casa con me. Poi maschere, ma questa volta visto che ne ho tante per il viso e non le ho ancora finite quelle che avevo in casa di Primark, mi sono data alle maschere per capelli, ne ho prese di due tipi, questa rosa, 1,30€ tra l'altro, quindi veramente poco, sono maschere monodose, le andate a mettere, poi vi mettete la cuffietta, fate tutta la vostra skin care, eccetera eccetera, poi doccia, le lasciate in posa un bel po' in modo tale che facciano il loro effetto, questa è con la cheratina, dovrebbe essere tra l'altro anche anticrespo, quindi benissimo, ne ho prese due e due di queste verdi, queste verdi dovrebbero dare un pochino più di volume e idratazione, sono con peptidi e pantenolo, quindi anche questo, due cipienti fantastici mi hanno colpito, quindi le proveremo, le testeremo magari insieme e vediamo se saranno all'altezza delle aspettative. Poi da Primark con il makeup devo dire che sono sempre sfortunata. Allora ho preso questo stick, lo vedete già aperto, sì perché ero troppo curiosa e in macchina mi sono messa a sbustare un po' le cosine, a fare qualche swatches, non ho resistito fino al video, ma devo dire che ahimè la cura di Primark per il makeup lascia un po' a desiderare perché questo era completamente sigillato sopra, io sono andata ad aprirlo, infatti vedete che è proprio, l'ho proprio aperto in modo brutale, diciamo, ma manca il tappo di questa parte dello stick, è uno stick con la parte illuminante e il contour, eccolo qua, è della Revolution, comunque pagato 6 euro, ecco mi dispiace averlo preso già impacchettato e già in questa condizione, quindi già e no, insomma. Ho preso un lip volume, un lip plumper, un olio per labbra appunto, 3,50 euro, dovrebbe fare questo bell'effetto plumper e questo bell'effetto di idratazione. Ha un sacco di glitter all'interno, vedete? È molto molto bello. Sì, non sono ancora guarita, in effetti sentite ancora la voce un po' nasale, ma purtroppo sto cercando di fare del mio meglio per guarire al 100%. Elena Passione Blush, non potevo lasciare questo blush liquido, anche questo è un super dupe diventato viralissimo, l'abbiamo visto in tantissimi video, sui social in generale, è l'Instant Blusher Drops, quindi sono queste goccine di blush ed è veramente bellissimo. È con acido yanuronico e marula oil, quindi è con degli oli e anche degli eccipienti. L'ho swatchato se non è rimasta veramente a bocca aperta, veramente bellissimo, a parte che ne basta veramente poco, c'è una goccia e viene fuori questo colore super super luminoso, bellissimo. quindi da questi acquisti sicuramente ci uscirà un videoprova, almeno andiamo a vedere bene come lavorano questi prodottini in utilizzo. E poi non mi sono fatta scappare neanche il blush, questo in sick simile Charlotte, povera Charlotte, ormai abbiamo visto Essence, Primark, insomma tutti i marchi un po' low cost. Devo dire che ha un'irradiazione migliore di quella di Essence, nel senso che va un pochino più a spargersi il prodotto sulla spugnetta ed è questo colore qui. Sono molto simili, però questa è una punta più aranciata, invece questo ha una punta più rosata. Quindi dai, non sono proprio identici, ma simili. E poi ovviamente per cercare di completare una sorta di make up ho preso un ombretto in pottino. È veramente bello come colore, proprio luminoso, iperluminoso, vedete? È proprio questo rosa, iperluminoso. E questo è stato tutto il mio shopping da Primark. Adesso abbiamo il sacchetto di Pepco da andare a spacchettare insieme. Tra l'altro Primark e Pepco le due P, io le chiamo, perché sono anche, secondo me, un pochino concorrenti, nel senso che più o meno hanno una sorta di politica simile come prodotti in vendita, come prezzi, come clientela. E quindi sono due store molto molto simili. E vediamo appunto cosa ho acquistato da Pepco. Anche qui ovviamente mi sono fatta tentare da qualcosa per la mia piccolina. È veramente carino questo giubbottino e poi aveva un prezzo veramente super accessibile. 15 euro, quindi assolutamente un prezzo super piccolo ed è veramente carinissimo. Ha fatto tutto a fiori, mi piaceva un sacco. Poi ho preso due cosine di abbignamento che vanno un po' a completare le cose che ho preso da Primark. Adesso capirete il perché. Ho trovato questa bellissima borsina che ci ho pensato, ripensato, ho fatto il giro, ci ho rimuginato un attimo, poi ho scelto di acquistarla anche perché costava solamente 6 euro ed è veramente bellissima. Mi sembra di averla vista nella collezione primaverile dell'anno scorso, quindi per questo era così scontata, ma è veramente super carina con questo manico in perle. Poi anche questa catenina leggera in oro perché la potete portare anche a tracolla. E niente, mi sembrava veramente della misura giusta, super carina, veramente bella da indossare. L'ho pensata proprio in un total look. Spesso lo faccio quando magari vado a fare shopping, cerco di combinare, anche se vado in due negozi, un outfit in modo tale da avere qualcosa di nuovo ma che si possa combinare insieme. al lavoro, scherzando, mi chiamano sempre la donna degli outfit perché lo sanno che magari quando vado a fare shopping, spese, le mie colleghe lo sanno, spesso mi faccio queste combo. E ho trovato questi mam jeans che sono veramente pazzeschi. Adesso voi ovviamente non capirete molto dal video, ma hanno una vestibilità veramente pazzesca. Tra l'altro sono anche leggermente elasticizzati, vestono veramente morbidi, hanno proprio quella vestibilità comfy che piace ultimamente a me, sono veramente belli. E pagati 15 euro, quindi anche questi super approvati. Questi appunto li ho pensati in combo con le felpine che abbiamo visto e la borsina che avete visto prima. E non mi sono fatta sfuggire nemmeno le calzine perché mi mancavano. Le amo grigie perché bianche, non lo so, a me sembrano un po' particolari sotto magari la scarpa, la sneakers e non so, preferisco il grigio o il grigio o il nero nella calza. Queste sono 5 paia per 2,50 euro. Sono proprio questi calzettoni corti, super comodi, hanno un colore neutro, quindi ovviamente acchiappate, le utilizzo anche al lavoro, anche se al lavoro dovrei utilizzarle nere, ma va bene, non ditelo a nessuno. E poi ho preso delle tazze che però non ho qui da farvi vedere, ma sono di sotto in cucina, mi metterò una clip, sono veramente super carine, super primaverili, sono verdi con il disegno della margherita, quindi tutti questi fiorellini grandi disegnati sopra. È una bella tazza, bella, consistente, perché a me la colazione piace bella, consistente. Sono quella che fa la colazione super light, assolutamente, e quindi ho bisogno proprio del mio tazzone e questo è super colorato, mi ispirava tantissimo proprio queste vibes primaverili, quindi anche quelle prese. E devo dire che questo è stato tutto, tuttissimo il mio shopping da Pepco e da Primark. Fatemi sapere anche voi se avete acquistato qualcosa per questo inizio di primavera, fatemi sapere qual è l'articolo che vi è piaciuto di più. Vi saluto, vi bacio e spero di ritrovarvi qui in un prossimo video. Ciao!